buongiorno e benvenuti nel mio canale oggi vedremo come criptare o meglio criptografare un file realizzato con libreoffice il sistema per criptare i file è lo stesso per tutte le applicazioni io vi mostrerò come procedere con documento writer con foglio di calcolo calc e con presentazione impresse ma ci può fare lo stesso anche con disegno draw dunque apriamo libreoffice doppio clic vi ricordo che per installare il libreoffice è completamente gratuito si va in qualsiasi browser si digita libreoffice si va su invio ecco qua libreoffice in italiano si va su scaricate ora quindi si fa il download dell'ultima versione che in questo caso era 7.5.0 che può essere installata su windows su linux su mac sia a 32 sia 64 bit su windows mentre su mac ci sono due opzioni per due diversi processori dunque detto questo dopo aver fatto libreoffice vediamo come criptare un file qualsiasi si va su afri file seleziona un file creato con libreoffice oppure lo possiamo creare sul momento iniziamo con un file creato con documento writer seleziona si va su afri e questo è il file creato con documento writer come vedete libreoffice writer per criptarlo è semplicissimo si va su file salva con nome ci dà un nome chiaramente diamo un nome diverso per mantenere il file originale lo chiamiamo equazioni matematiche criptate e si lascia il formato odt che quello originale proprietario di libreoffice come vedete si può mettere a spunta salva con password se si mette a spunta salva con password dovremmo digitare la password con cui proteggerlo come vedete c'è un'altra opzione cioè cifra che cifrare significa praticamente proteggere con chiave gpg dunque questa opzione è fattibile direttamente con linux mentre con windows bisognerebbe installare un programma che è gratuito comunque in questo caso lasciamo perdere cifra con gpg magari potremmo vedere un'altra volta si mette la spunta salva con password dove selezionato la caratteria di download e avevi dato un nome al file e si va su salva chiaramente dovremmo digitare la nostra password ecco qua quindi si dice si digita una password chiamiamola che so una password semplicissima rosa poi dovremmo ovviamente confermare la password la stessa password ovviamente dopo aver impostato una password il documento si aprirà solo con essa se dovessi dimenticare la password il documento non potrà essere recuperato la password distingue tra maiuscole e minuscole quindi case sensitive si può andare anche su opzioni e come vedete si può anche optare per apri file in sola lettura poi vedremo cosa significa adesso per adesso lasciamo perdere e si va su ok a questo punto è stato salvato il nostro file chiudiamo questo andiamo a vedere quello salvato con la password che l'abbiamo chiamato appunto equazioni matematiche cliptate se io ci faccio sopra un dopo clic che cosa succede non si aprirà il file ma visualizzeremo come vedete questa finestra in cui dovremo inserire la nostra password la nostra password è rosa si fa su ok e solo allora potremo visualizzare il file eccolo qua quindi è semplicissimo chiaramente poi io lo chiudo e per riaprirlo dovrò ancora un'altra volta chiaramente digitare la stessa password stesso discorso vale per anche per le presentazioni impresse per il file di foglio di calcolo vediamo per esempio un foglio di calcolo facciamoci sopra un tipo clic per aprirlo con libreoffice oppure si può andare direttamente su libreoffice e aprire questo file facciamoci sopra un tipo clic questo è un foglio di calcolo lo apriamo con libreoffice catch questo voglio di calcolo può essere salvato con una password e quindi protetto si va su file salva con nome come prima anche qua come vedete ci sono le opzioni salva con password lo chiamiamo file test criptato stesso discorso che la chiave gpg ce l'hanno solo quelli con linux quelli con windows bisogna installare un programma gratuito comunque si va su salva e si digita la password stessa password rosa si conferma password nella riga sottostante si va su ok si chiude se adesso noi si fa un doppio clic qua su file di test criptato cosa succede si visualizzerà questa finestra in cui digitare la password giusta per poi adesso ok per poterla aprire infine vediamo come fare con una presentazione doppio clic per aprire questa presentazione impresse di libreoffice per salvarla con la password si va sempre su file salva con nome e chiamava presentazione di test criptata si va su salva si mette salva con password e si va su salva a questo punto si deve inserire la nostra passo per due volte e quindi si va su ok si chiude che adesso noi facciamo un doppio clic su presentazione di test criptata cosa succede dovremo digitare la nostra password per poterla aprire per poter aprire questo file ecco fatto come vedete si è aperto e adesso lo chiudiamo e adesso vediamo invece l'altra opzione quella con la protezione dalla lettura in writer io faccio solo dopo clic per aprire questa però non è a questo è criptata quindi vado su rosa ok a questo punto io lo posso decriptare salva con nome che posso chiamare qualsiasi matematiche 2 e quindi questo in questo caso non sarà criptato perché non metto la spunta salva con password e quindi vado su salva poi chiudo se io adesso vado su equazioni matematiche 2 o dt cosa succede succede che non avendo messo la spunta apri con password questo si visualizzerà tranquillamente adesso vediamo invece l'opzione di apri sulla lettura andiamo su file salva col nome stavolta mettiamo salva con password equazioni matematiche stavolta chiamiamo tre e andiamo su salva però nelle opzioni mettiamo apri in sola lettura in questo caso quindi magari non mettiamo la password quella generale ma mettiamo sulla password per la sola lettura quindi si mette qua rosa rosa e si va su ok si chiude adesso si apre questo file come vedete io posso aprirla solo in solo in solo la lettura perché non posso modificare niente di quello che c'è se non addirittura non riesco nemmeno a digitare qualcosa questo significa che l'ho salvato per che possa essere aperto solo in solo la lettura come vedete si vede qua su solo la lettura infine come si va a togliere la cifratura la criptografia a un file di libreoffice innanzitutto si deve aprire con la password giusta per esempio questo qua abbiamo abbiamo criptato si fa sopra un dopo clic e si deve digitare la password giusta quindi si digita rosa si va su ok e quindi si apre tranquillamente per poterlo salvare senza password quindi per poterlo utilizzare liberamente andiamo su file salva con nome stavolta ci mettiamo equazioni matematiche non criptate e andiamo su salva senza mettere la spunta a salva con password non mettendo la spunta salva con password saranno salvate normalmente con un qualsiasi file che potrà essere aperto da chiunque andiamo su salva chiudiamo come dice equazioni matematiche non criptate qui il formato ADT di libreoffice ci posso con un dopo clic e si apriranno automaticamente senza bisogno di inserire la password quindi avete visto semplicissimo file salva con nome si mette la spunta salva con password per salvare con la password per eliminare la cifratura si toglie salva con password e naturalmente dopo averle aperte con la giusta password se invece noi abbiamo un file di libreoffice che si può affrire solo in sola lettura come questo che è uno di documento writer solo a lettura come vedete ma potrebbe essere anche un file di foglio di calcolo oppure di presentazione in press come si fa a renderlo invece modificabile anche questo è abbastanza semplice si va qua su modifica modo modifica ci si clicca sopra e qui si deve inserire la password si inserisce la password si va su ok e questo documento da solo a lettura diventerà modificabile come vedete adesso è sparita qua solo la lettura cioè prima c'era solo la lettura anche in parente di tonte adesso non c'è più e adesso è modificabile io per esempio posso magari inserire quello che vuoi fare e modificare il file a mio piacimento ovviamente lo posso anche salvare vai salva con nome ovviamente senza mettere la spunta salva con password e questo è tutto per quanto riguarda la protezione con password dei file di LibreOffice alla prossima volta